Di Eugenio Montale, La poesia L'angosciante questione, se sia a freddo o a caldo l'ispirazione, non appartiene alla scienza termica. Il raptus non produce, il vuoto non conduce, non c'è poesia al sorbetto o al girarrosto. Si tratterà piuttosto di parole molto importune, che hanno fretta di uscire dal forno o dal surgelante. Il fatto non è importante, appena fuori si guardano d'attorno e hanno l'aria di dirsi che sto a farci. Con orrore la poesia rifiuta le glosse degli scogliasti, ma non è certo che la troppo muta basti a se stessa o al trovarobe che in lei è inciampato senza sapere di esserne l'autore.